La vendita dei tagliandi partirà solo nella nottata con prelazione anche online per gli abbonati e quanto filtra da Viaggio Berti in vista della sfida playoff di domenica allo zaccheria con la Turris, ciò che non sorprende tuttavia e che per l'ennesima volta da queste parti si è costretti a fare i conti con i ritardi. La vendita tardiva dei tagliandi infatti è una costante e se altrove l'evento è gestito con una prevendita extra large, che parte con netto anticipo, qui a Foggia si è costretti ad attendere riunioni operative che si svolgono, non si sa perché, puntualmente solo qualche giorno prima della gara, con la conseguenza di ritardi che per certi versi frenano pure l'affluenza, penalizzando soprattutto i tanti tifosi che dalla provincia vorrebbero frequentare lo zaccheria. In tanti hanno segnalato il problema domenica scorsa in occasione della gara contro l'Avellino, diversi tifosi giunti da fuori città sono stati costretti infatti a fare rientro a casa, avendo trovato botteghini e rivendite chiuse o comunque non abilitate ad emettere tagliandi. La cosa sembra ripetersi anche in occasione della sentitissima sfida con i Corallini, che apre la serie degli spareggi promozione. Di fatto la vendita dei biglietti partirà da appena 48 ore dalla gara, con tutti i problemi del caso. Nel frattempo la squadra di Zeman prosegue la marcia di avvicinamento alla sfida allenamenti fino a sabato, giorno in cui è in programma la rifinitura, che scioglierà tutti gli ultimi dubbi del tecnico Boemo.